Finanzieri della compagnia di Giulianova nell'ambito del dispositivo di contrasto ai traffici illeciti in zona periferica di Martinsicuro individuavano soggetto nigeriano che alla vista dei militari cercava di dileguarsi. Prontamente bloccato veniva sottoposto il controllo e si rinveniva all'interno nascosto in un calzino tre involugri contenenti 39 grammi di eroina. La successiva perquisizione domiciliare consentiva di individuare e di portare, di sequestrare un bilancino di precisione, vario materiale necessario per il confezionamento delle dosi, un coltellino. Il soggetto fermato è stato arrestato in flagranza di reato e posto a disposizione dall'autorità giudiziaria. Questo conferma che in questo periodo di crisi lo spaccio al minuto di sostanze stupefacenti costituisce una delle principali fonti di arricchimento della criminalità.